... Arrivo nel 92 a Sarajevo, fotografai la quotidianità della città, una sedia del Medioevo a un certo momento nel 1900. Nel centro storico, dove io praticamente ogni giorno giravo con tutte le precauzioni, ma comunque fotografavo, sai, due o tre foto al giorno, non di più, in una viuzza ho trovato questo signore, ho scattato la foto e questo mi ha guardato e io, come dire, mi sono quasi scusato in francese e lui mi ha risposto in francese. E mi ha risposto a un certo momento, ma perché mi ha fotografato? E io gli ho detto, perché sono un reporter, sono qui a fare delle fotografie.